bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite e sono novità veramente incredibili perché si parla ovviamente di stagione 3 più passano le ore più gli sviluppatori aggiornano i codici sorgenti e più notizie vengono fuori oggi vi faccio vedere uno spezzone ma anche delle immagini davvero incredibili perché le modifiche della mappa sono già in game prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e quindi ragazzi andiamo subito prepotenti a parlare del primo argomento di oggi che sono le fn cs arriva direttamente un tweet dalla pagina di fortnite competitive che dice gli inviti alle fn cs iniziano tra dieci minuti che cosa vuol dire che ieri sera c'è stato un evento importante un campionato riservato per l'invito non so se qualcuno l'ha visto su twitch in diretta tra cui c'erano appunto dei nomi anche abbastanza importanti tra cui monster face oc antics slowdown show a gear sono tutti ovviamente giocatori che hanno ricevuto un invito speciale per partecipare ai campionati delle fortnite championship series di fortnite quelli che insomma ci sono stati alle 19 dei giorni precedenti quindi spero che ve lo siate goduto un grande un grande evento che speriamo poi posso ovviamente ripetersi e aspettiamo ovviamente la finale per vederla insieme e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi si tratta di un altro tweet ufficiale oramai lo avrete notato tutti da ieri pomeriggio sono tornate così nel nulla le spade laser il tweet arriva anche ufficialmente nella pagina di fortnite che dice però feel like come posso dire prendi no prendi piacere però divertiti no con le spade laser che torno per un tempo limitato ed è vero che in game abbiamo rivisto e rivediamo tuttora le quattro spade laser che ci avevano accompagnato durante il mini evento di star wars non so chi se lo ricorda dove ci fu il milenium falcum che passò e fecero un po di cose interessanti ma la vera domanda è ci sta il fatto che ritornano le spade laser così dal nulla oppure no già abbiamo il kingsman che diciamo è un po sul chi va le spade laser hanno diciamo il discorso che ti proteggi fai degli attacchi speciali secondo me nì nel senso ma la cosa invece curiosa è che come vi dicevo non sono tornate solo le spade laser ma sono tornate anche le legacy che cosa sono le legacy sono praticamente i premi le ricompense che si ottengono facendo determinate cose in game no e infatti se andiamo a vedere nei file di gioco sono ritornati appunto quelli che ci furono anche in season 11 per spiegarmi meglio vi faccio vedere la fotografia sotto di me insomma li state vedendo proprio qua dove potete utilizzare e dovete mi sembra utilizzare con il vestito di kylo ren la spada rossa e killare qualcuno a borgo bislacco mi viene in mente questo e ce ne sono tanti tanti altri quindi utilizzate se li avete le spade laser e sicuramente potrete ottenere per chi interessa degli archivments delle legacy aggiuntive e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi perché si parla anche di modalità creativa esiste una possibilità se volete divertirvi con i vostri amici a spadarvi violentemente basta semplicemente che nella modalità creativa nella parte inseriate delle vending machine quindi dei distributori e sarà possibile tirar fuori una spada laser quindi potrete tranquillamente giocarci e godervele senza aver paura che qualcuno vi killi in game e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi perché devo soffermarmi sulle novità lo so che tanti mi chiedono chiuderemo allora season 3 season 3 che cosa dove quando perché abbiamo qualche cosa di nuovo ragazzi ve lo ricordate vi avevo fatto vedere prima un paio di giorni fa nel video news la casa galleggiante che tutti ricordiamo ma per chi non lo sapesse ci sono altri due teaser il primo è miascolo con i braccioli e come vedete anche lui con l'acqua che gli arriva fino all'altezza del bacino e il secondo invece è la banana che nuota con sotto uno squalo gigante ovviamente abbiamo capito ragazzi che si parla di di roba sommersa ma salta fuori nelle ultime ore un video che sta letteralmente facendo il giro dei forum del web e di tutto quello che è collegato a forte ve lo faccio vedere ve lo faccio vedere perché merita davvero tantissimo guardate un po che storia porca di quella porca c'è veramente una casa sommersa è una roba veramente molto incredibile non si capisce bene da dove sia stato tirato fuori questo video potrebbe essere stato costruito in creativa non lo so sinceramente non ho mai visto una roba del genere o potrebbe veramente invece uscire da dalla direttamente dal team di sviluppo di epic non lo sappiamo ma se lo riguardiamo molto rapidamente questo dovrebbe essere più o meno l'idea che epic games ha in mente per la season 3 quindi molte case ma alcune parti della mappa saranno appunto sommerse e devo dire che mi piace davvero tantissimo questa cosa di poter spostarsi anche dentro una casa semplicemente nuotando un metodo di gioco che noi non abbiamo in realtà mai visto perché non c'è mai stato ma che apprezzo veramente un sacco e tra l'altro come vi anticipavo all'inizio del video sembrerebbe che nella mappa giorno per giorno ci siano dei cambiamenti importanti c'è un post che sta anche questo avendo un notevole successo su twitter che paddles che cosa sono paddles sono le crepe sembrerebbe ragazzi che in alcuni punti specifici della mappa si stiano formando letteralmente delle crepe ora vi riporto un attimo indietro alla memoria chi si ricorda le mega crepe che passavano tra bosco blatterante andavano giù fino a passatempi pomposi tagliavano giù ecco non sono così grandi le crepe ma sono qualcosa di simile a quello che vi sto facendo vedere ora non si è capito se siano già disponibili sul battle royale o se si trovino solamente nelle mappe della modalità creativa certo che ce ne sono veramente tantissime in giro per la mappa e devo dire che io personalmente non ci avevo mai fatto caso ora vi rivolgo a voi la domanda se volete commentare qui sotto ci avete mai fatto caso di queste crepe perché se così non fosse vuol dire che ci starebbe il discorso di cui parlavamo ieri di un nuovo fenomeno che potrebbe abbattersi sulla mappa ed effettivamente dopo la tempesta di ghiaccio dopo l'eruzione della lava effettivamente un terremoto noi non lo abbiamo mai provato le crepe potrebbero anche parlare di questo ce ne sono altre chiedo scusa per l'immagine sfogata non c'era niente di meglio ma è una cosa davvero interessante potrebbe anche avere a che fare ce ne sono veramente tante ragazzi quindi non sono dei fotomontaggi queste sono delle robe che ci sono veramente in game e le studierò le studierò approfonditamente in modo che anche voi potrete sapere qualcosa tra l'altro voglio farvi vedere un altro spezzone di una roba che sta anche questa impazzendo nei forum su reddit che potrebbe essere dedicata ad una nuova una nuova ambience cioè una nuova ambientazione che magari arriverà o verrà aggiunta nella prossima season guardate un pochettino non è niente di speciale però è una figata nel senso se così fosse questo sarebbe un arrivo di una possibile giungla come vedete quella macchina lì è quella che già conosciamo l'abbiamo già vista è veramente la macchina di fortnite ma non abbiamo mai visto alberi così alti e una foresta così fitta mi viene un pochettino in mente la season 8 se vi ricordate dove c'era il velliero poi risalendo su dal velliero fino al vecchio quartiere allora si passava in mezzo a una specie di foresta dove c'erano le teste quelle di pietra no questa potrebbe essere qualcosa di simile non si sa ancora molto io ve la faccio vedere in anteprima appena si saprà qualcosa lo saprete anche voi insomma ragazzi prima di salutarvi dai abbiamo l'ultima manciata di secondi e questo era quello niente questa un'immagine che vi ho fatto vedere prima volevo salutarvi no non ho più niente per oggi e quindi anche per adesso ragazzi tutte le news io ve le ho dette vi ricordo che questa settimana se tutto va bene dovrebbe arrivare la nuova patch 12.60 ma sono più propenso a pensare che arriverà un update della 12.50 io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche oggi il video news mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao 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 ciao